Hanno presentato una proposta di approvazione di ordine del giorno mirata a fornire mandato all'amministrazione comunale di richiedere misure nazionali ed europee per il contenimento del caro energia e dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas per famiglie, imprese, enti locali. I consiglieri comunali di San Cataldo, Gian Piero Modaffari, Vincenzo Naro, Bartolo Mangione, Rosario Aprile, Salvatore Pirrello e Rosario Sorce. Una proposta contenente diversi punti, dalle misure per le famiglie alla campagna di informazione sull'uso razionale dell'energia e che sarebbe stata inoltrata all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale perché possa essere trattata in occasione del primo Consiglio Comunale utile. Abbiamo ritenuto opportuno impegnare l'amministrazione comunale con un opportuno ordine del giorno che abbiamo portato in Consiglio Comunale, che chiederemo l'approvazione di tutto il Consiglio Comunale, con il quale si chiede all'amministrazione comunale di interloquire col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Presidente della Regione, affinché si trovano delle soluzioni per cercare dei modi per poter ridurre questo effetto drammatico del costo dell'energia. In particolare chiediamo all'amministrazione comunale che si faccia carico di una interlocuzione con la società di distribuzione energetica del gas metano allo scopo di mettere in atto opportune forme di rateizzazione di bollette eventualmente non pagate, così come chiediamo che l'amministrazione comunale si faccia parte attiva ai confronti del Governo nazionale e regionale per trovare dei bonus energia da poter distribuire alle famiglie più bisognose, che hanno degli 6 inferiori ai 30.000 euro, così come ad esempio poter ridurre l'IVA al 4% sul pellet o altre tipologie di risorse energetiche. Chiediamo altresì di introdurre una normativa che preveda una semplificazione nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di fondi di energia rinnovabile. Insomma chiediamo che queste difficoltà dei nostri concittadini siano portate all'attenzione del Governo nazionale e regionale.